Hanno tentato di farmi una rapina, un Audi S3 bianca, targata E, F e qualcosa. Ti affiancano, ti puntano la torcia in faccia, poi ti superano e ti mettono la paletta davanti. E ancora caccia alla banda di finti carabinieri che si aggira tra la Toscana e l'Umbria a bordo di un Audi S3 bianca seminando il panico tra la gente. Ti fermano, non sai se sono quelli giusti o no, cioè viviamo col terrore. La scorsa domenica la banda ha rapinato brutalmente una coppia di Castiglion Fiorentino a Badicorte. Lungo questa strada ci troviamo a pochi chilometri dalla casello di Monte San Savino sempre con lo stesso stratagemma, quello del falso posto di blocco. In questo caso i banditi si sarebbero qualificati come agenti della Digos. Anche qui con paletta, pettorine, catari frangenti, luce LED azzurra, l'invito a fermarsi. A questo punto l'aggressione a mani nude e con una pistola, non si sa se giocattolo o meno. Poi la fuga con il Rolex dell'uomo, gioielli della donna, circa 1000 euro e i cellulari. La coppia così ancora sotto shock ha allertato le forze dell'ordine, quelle vere in questo caso. Un pochino più preoccupati di quello che si può incontrare per la strada. Un ride identico si era consumato il giorno precedente a Tuoro sul Trasimeno, lungo il raccordo Perugia-Bettole, vittima della rapina, una donna. Nello stesso giorno, nel mirino della banda, sempre lungo la stessa strada, era finito anche un medico che però si è accorto in tempo dell'inganno e ha così ingranato la retromarcia. Uno aveva una pettorina su scritto carabinieri di plastica, palesemente filta, l'altro una pistola in pugno. Non mi è tornata la cosa, gli ho piantato gli abbaglianti in faccia e sono scappato a retromarcia. Adesso è caccia alla banda, con tutta probabilità responsabile di almeno tre colpi in 24 ore tra l'Umbria e la Toscana. Si ha paura? Un po' si, c'entra un po' la paura, specialmente per noi che comunque siamo qui nelle attività commerciali, quindi c'è sempre paura non sapendo mai chi entra, chi esce e quando usciamo come può essere la situazione. Quindi speriamo bene. Ma non solo, rapine di questo genere si erano verificate anche nella prima metà di dicembre in provincia di Perugia. Anche l'Audi Bianca, infine, è oggetto di ricerche serrate. L'ipotesi è che sia stata rubata ad un concessionario di Montevarchi alcuni giorni fa.